NINFEA ASMR Ciao a tutti, bentornati sul canale NINFEA ASMR Come state? Oggi sono ancora in compagnia del mio nuovo Zoom che ripeto non è mio, prima o poi andrà restituito e torno con uno show and tell delle mie collane preferite quindi dopo aver fatto i bracciali e gli orecchini torno ancora una volta con i gioielli Allora, partiamo da quelli colorati Allora, vi faccio vedere questa collana come vedete ha un pesciolino verde acqua e il cordoncino che si può stringere al collo tipo Joker di questo color cuoio Il pesciolino lo trovo delizioso Infatti è una collana che metto molto spesso d'estate e credo sia, se non erro, di Swarovski, vediamo Sì, c'è il simbolino di Swarovski Eccola qui Poi, sempre di Swarovski ne ho un'altra che è sempre molto molto estiva in quanto ha questa stella marina azzurra Vedete che bella? L'appoggio per farla apprezzare meglio La catenina è molto molto sottile e il pendaglietto che è intercambiabile perché come vedete qui c'è un piccolo moschettone Il pendaglietto è di un celeste molto molto carino con una maglia un po' scollata dà veramente un ottimo punto luce Poi sempre sulle collane colorate ed estive c'è questa che mi è stata regalata lo scorso anno da mia cognata E' una collana fatta in vetro E' proprio vetro di Murano qua dietro c'è scritto e all'interno della confezione c'era la certificazione Il cordoncino è di un verde molto brillante e infatti sta benissimo con un vestito più o meno dello stesso colore che ho Molto molto carino Poi sempre restando sul verde questa è una collana che adoro adoro davvero e ce l'ho da tantissimi 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 anni mi è stata regalata da mio zio e credo che l'abbia presa su una pancarella ma la particolarità è la vernice o il pigmento non so di cosa si tratti con cui è stato ricoperto il vetro del ciondolo perché come vedete è assolutamente cangiante Non so se si possa apprezzare sotto le luci ma davvero è un colore particolarissimo che ha riflessi sia blu che oro a seconda di come lo si guarda bella davvero bella davvero bella davvero vado ad esaurire le collane colorate mostrandovi questa è una collana che esaurita sinceramente non ricordo chi mi abbia regalato, forse è sempre mio zio e anche questa ha tantissimi anni, è una stella a sei punte, quindi potrebbe essere una stella di David e la base è viola, però ci sono queste striature gialle e blu in questo motivo simile a spirale casuale qui è molto carina anche la chiusura perché non è il classico moschettone ma sono due palline che ruotano e si svitano il materiale sinceramente non ho mai capito bene quale sia perché questa stella sembra quasi fatta di pongo di sicuro non è fimo, è come se fosse pasta di sale solidificata, però resiste da tantissimi anni quindi non so quanto sia davvero pasta di sale poi adesso andiamo sulle collane un pochino più impegnative, più da serate di gala o da matrimoni allora vi mostro questa che è una collana molto 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 elegante e molto sottile, infatti non so se si possa vedere benissimo buonissimo dalla videocamera a questo pentaglietto con questa forma a onda in oro bianco che ha la prima metà quella superiore lucida e la seconda motà opaca la collana è molto molto sottile e anch'essa è in oro bianco vi assicuro che con un bel vestito rende benissimo è molto 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 elegante ok sempre sullo stesso stile ne ho un'altra che è questa qui con il simbolo dell'infinito e questi piccoli svaroschini tutti intorno all'infinito appunto è una collana molto elegante che avendo questo motivo orizzontale al contrario di quella precedente è carina con abiti dallo scollo rotondo mentre la collana che vi ho mostrato prima avendo un elemento verticale è più carina con gli abiti con lo scollo a V questa collana ha la chiusura classica con il moschettone e si può decidere quanto tenerla più lunga o più corta a seconda della tipologia di vestito che si indossa io solitamente la tengo abbastanza corta ecco fatto ecco fatto ecco fatto poi poi restando sulle collane eleganti vi mostro questa è una collana di svaroschi che mi è stata regalata dal mio ex fidanzato e come vedete è ricca di dettagli allora ci sono questi due cuoricini contornati da questi piccoli 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 svaroschini poi poi attaccati a questi cuoricini ci sono dei pentaglietti che sono così allora il primo pentaglietto è un cristallo a forma di cuore completamente trasparente e ha questo qui quindi poi il secondo pentaglietto ha una catenina un pochino più lunga ed è sempre un piccolo cuoricino che però è in metallo vedete con all'interno uno svaroschino poi abbiamo questo pentaglietto che è un cristallino a forma sferica e infine il pentaglietto con la scritta love e un cristallino all'interno della lettera O è una collana che ho portato veramente tanto anche se adesso è da parecchio che non la indosso forse perché ho cambiato un pochino stile nel corso degli anni anche questa collana come vedete si può regolare in lunghezza perché perché ha perché ha tutti questi buchetti che permettono di tenerla o più a giro collo o leggermente più pendente poi 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 oppure sul color argento vi mostro questa collana che mi è stata regalata dal mio compagno come vedete c'è una chiave di violino con un piccolo cristallino qui sulla coda la catenina è leggermente più spessa rispetto a quelle che abbiamo visto prima e in generale tutta la collana è in acciaio che in teoria dovrebbe rimanere sempre bello brillante a questa collana sono molto legata un po' perché rappresenta un po' quella che è la nostra passione più grande e che spero un giorno possa essere il mio unico lavoro un po' perché comunque è un regalo del mio compagno quindi ovviamente ci sono molto legata restando sempre su collane eleganti vi mostro questa che è un po' difficile da mostrare ecco forse ce l'ho fatta ecco ecco allora questa è una collana argento con inserti oro aspettate che provo ad adagiarla meglio per farvi capire ok ed è composta da la catenina principale e cinque fili dal più corto al più lungo che appunto si intrecciano creando questo movimento questo gioco sul collo che è davvero bellissimo e elegante ci sono appunto gli inserti di questi cuoricini in oro che sono alcuni più grandi e altri più piccolini io ho un abito color crema con cui questa collana sta divinamente è davvero bellissima dovrei cominciare a fare degli show and tell indossati vi prometto che dal prossimo farò così poi restando sempre sull'oro vi mostro una collana che mi è sempre piaciuta molto è un giro collo con il classico nastrino nero che si può stringere e ha questo giondolino con questo angioletto in oro con un piccolo 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 brillantino qui non so se si può apprezzare dalla videocamera perché l'inquadratura non è strettissima diciamo che pur essendo una collana con il giondolino d'oro è abbastanza portabile perché avendo il nastrino nero è un po' da tutti i giorni a proposito non c'entra nulla ma vi piace questo smalto? quello sulle unghie tranne l'anulare era lo smaltino che vi avevo fatto vedere nello show and tell dei prodotti che avevo acquistato all'outlet di Locate Triulzi ok andiamo avanti ora vi mostro una collana divertente questa risale a circa 25 anni fa io sono dell'86 quindi se fate un rapido calcolo potrete capire che questa collana me l'hanno regalata quando avevo sei anni all'epoca andava molto di moda avere il girocollo in caociu infatti questa è una collanina in caociu che con gli anni si è un pochino indurito all'epoca era molto 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 morbida e questo è il giondolino in argento purtroppo si è un pochino annerito vedete la chiusura si è annerita è il giondolino di calimero a me piaceva tantissimo calimero vi piace? non so se si veda bene però è troppo carino e io questa quando andavo all'elementare la mettevo tutti i giorni poi chiaramente l'ho conservata come ricordo ma non escludo magari di rimetterla tanto chi me lo vieta o no? cosa dite voi? ora andiamo sul pezzo forte quella che metto quasi sempre quando ho una serata si tratta di una collana di Braille di una collezione abbastanza vecchia ed è questa sorta di pugnale che veniva accompagnato da questo nastrino in velluto o meglio simil velluto barra similpelle che si annota al collo facendo più giri questa collana questa collana è la mia preferita perché dà veramente carattere a qualsiasi outfit un po' rock io io di solito la porto abbastanza ben stretta al collo faccio faccio due giri di solito intorno al collo e non la lascio molto lunga anche se dipende dal tipo di vestito che indosso ovviamente il nastrino si può cambiare ne esistono anche di più sobri ma io la adoro in questa combinazione con il nero fa proprio effetto Joker senza essere un Joker quindi questa top poi sempre sullo stile Joker c'è questa che è una collana di nomination ve la ricordate nomination? mi è stata regalata per i 18 anni e ha il mio nome forse non lo sapevate ancora ma mi chiamo Erika il nome è scritto in oro su base argento infatti questi dadini sono in argento e il nome è placato oro meno male che ho un nome corto perché se mi fossi chiamata Alessandra o Cassandra o Maria Antonietta i miei genitori avrebbero speso una fortuna comunque il Joker si chiude in questo modo con questo con questo dadino che appunto funge da fermo nonostante abbia tanti anni utilizzo ancora molto spesso questo girocollo siamo siamo arrivati quasi alla fine vi mostro una collana di accessorize che mi ha regalato una cara amica e che trovo molto 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 carina è uno stile un pochino diverso dal mio leggermente etnico un etnico fru fru allora la catenina è in color oro un oro non giallissimo un oro tendente all'argento e ci sono questi inserti queste perline azzurra chiara nera fucsia poi questo fiorellino la farfalla questa perlina azzurra questa perlina con il fiorellino e quest'ultima perlina oro avendo questo elemento verticale mi piace utilizzare questa collana quando ho un vestito dallo scollo av perché rende moltissimo mi piace sempre seguire le linee dei gioielli e abbinarle alle linee dei vestiti oltre che chiaramente andare per colore poi un altro girocollo che io porto simile joker è questo con la chiusura regolabile che è di questo nastrino cortino nero e questo delfino che sembra saltare all'interno di un cerchio anche in questo caso trovo molto molto elegante l'alternarsi di oro bianco lucido e oro bianco satinato infatti come vedete il corpo del delfino è satinato ad eccezione della pinna della coda e del muso si chiama muso e del becco al becco se qualcuno lo sa lo scriva nei commenti sapete che mi piace imparare quindi trovo appunto molto elegante l'alternarsi di oro bianco lucido oro bianco satinato e questa è una collana che sfrutto abbastanza spesso perché mi piace il soggetto e appunto mi piace come rimane sul collo crea un bel punto luce siamo arrivati alla fine con l'ultima collana che vi mostro ed è questa è una collana di fossil della linea steel e ci sono legatissima perché è stato il regalo per i miei diciott'anni del mio migliore amico che purtroppo non c'è più quindi ci sono davvero molto molto legata e tra l'altro è molto nel mio stile perché io che durante le serate utilizzo outfit abbastanza rock si abbina si abbina perfettamente quindi è una collana che uso spesso che non ho mai smesso di usare e la trovo molto bella ha una linea che pur essendo moderna e forse leggermente aggressiva tra virgolette per quanto possa essere aggressiva una collana è comunque pulita ed elegante quindi la indosso sempre con tanto 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 piacere e niente questa era la mia collezione di collane e io spero che come sempre il video vi sia piaciuto e vi abbia rilassati sto ancora testando questo microfono e sul serio ne sto valutando l'acquisto anche se purtroppo è parecchio costoso quindi devo un attimo ponderare la cosa anche perché il canale è ancora piccolino quindi sicuramente sarebbe una spesa senza alcun tipo di ritorno ma solo per offrire una qualità sempre più alta a chi mi segue detto questo vi mando un bacione grande 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 e noi ci vediamo al prossimo video ciao